Una borsa di studio annuale intitolata Fernanda Bellomo, oncologa scomparsa all'età di 35 anni nel mese di dicembre 2016. Così l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta ha deciso di istituire questo premio, il ricordo dell'oncologa originaria di Santa Caterina Villarmosa. Verranno assegnati dunque 1000 euro ai laureati in medicina e chirurgia o in odontoiatria fino a 35 anni, distintisi nel settore della ricerca di base o clinica e iscritti all'Ordine dei Medici Nisseno. Il candidato non potrà ricevere più di una volta la borsa di studio. Sarà possibile partecipare inviando entro le ore 17 del 25 febbraio 2017 tutta la documentazione necessaria, che verrà poi analizzata da una commissione giudicatrice formata dai membri del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta. Dare la notizia di una borsa di studio, comunque promuovere questa iniziativa alla memoria, non è mai pienamente, non dà un pieno entusiasmo perché è chiaro che ha in cita la scomparsa di una collega, di una collega che era un esempio per tutti noi, per la nostra professione e soprattutto per noi giovani. Però sulla base di questa tragica notizia la possibilità di rendere questo evento un esempio anche per tutti gli altri colleghi è quello di aver istituito un premio di ricerca intitolato alla sua memoria. Un premio che possa fungere da stimolo per aumentare la ricerca nell'ambito dei giovani, per ispirarsi all'esempio della dottoressa Bellomo e far sì che il suo contributo alla nostra professione non vada disperso. La dottoressa Bellomo era un oncologo che aveva 35 anni, ha dato il suo contributo alla nostra professione ed è questo che non dovrebbe essere dimenticato.